Fai, apri la bocca, fammi vedere queste consiglie che mi sono messe. Sì, e vuol dire che sei il dottore? No, io e il dottore è un sono, però in questi tempi bisogna iniziare un po' uno a fare il dottore anche per conto proprio, perché qui con quanti vadrini questi dottori e si pigliano, digliano te e Peter, la fedora è finita, hai pronto soccorso e hanno subito voluto, 25 euro sono per preso i tassi. E siamo riusciti subito con Jack Money a recuperare tutti questi sordi facendo DOCS, dopo la sigla ti racconto anche a te come fare. Un pochino è arrossata ma è ferrito, senti Peter, anch'io non ce la faccio e ho la voce che mi cala di continuo. Ora aspetta eh, vediamo se così mi migliora. Non dovete sapere, un altro giorno la fedora si sentiva male e allora a corsa, a corsa, a corsa siamo andati al pronto soccorso. Una volta entrati lì, non è più come una volta, tu entravi al pronto soccorso, in qualche modo ti assistevano gradi se c'era la mutopa, c'era la cosa e l'altra. Ora, se non tu sei un codice rosso e tu parti sangue dappertutto e pedali il rosso e bisogna pagare. E allora appena entrata subito borda il tiete e il tiete esano 25 euro. E c'era sto dottorino, io l'ho saputo dopo e mi aveva lasciato l'insala d'attesa perché lei ultimamente ha messo su qualche chilo. Che dica, avrai queste feste e che chilo le piglia? Allora anch'io qui come sono messo e però a lei tutti i stili mi sono finiti proprio nel punto quello buono. E insomma c'aveva qui un po' la traite e questo medio insomma e l'ha guardato ma nella scollatura sto maiale. E allora ora io ce la porto più. Ho messo su in modo, mi sono messo così, ho la bassa lingua, me li so comprati, la gola lavorano avanti e la guardo io la gola è anche un po' più giubile. E poi insomma lei era svenuta lì per lì, noi si è portata al pronto soccorso e mi pareva giusto. Ma insomma ora so qual era il problema un'altra volta e si economizza di problema e una metta in mano a certi dottori. E invece grazie sempre a Gentemoni si è fatto doze che è stato in modo in cui si è reoperato i soldi di tiete e di pronto soccorso che la moto va e ce l'ha pagato. Questa app e non fa, questo conto di doze che tanto è tutto gratis. Gentemoni c'ha questa app, questo conto dal luglio di 2021 addirittura. Non gli hanno mai chiesto nulla, non ci hanno mai messo una lira, ha sempre preso boni. Per aprilio gli hanno dato a suo tempo un bono da 15 euro, poi in frattempo in questi ultimi periodi l'hanno abbassata a 10 euro. Ma ora è diventata una cosa impressionante con questa promozione c'è ora dell'altro giorno è partita sulle feste di Natale e dovrebbe andare avanti fino all'8 di febbraio. E funziona così. Se tu sei amico, tu c'ha amici e c'hanno doze, tu entri lì dentro e c'è il bannerino ti danno che aprire il conto un'altra regalo che tu puoi scegliere fra un monte che ci sono da 10 euro. Ma se tu ci contatti c'è la storia e per ogni account che uno c'ha può presentare infino a 5 amici. Ogni amico che ti presenta con il codice te invece delle 10 euro della carta regalo tu ne becchi 25. E l'amico che ti porta con il codice a te le 25 lui ne becca addirittura 50. Quindi questa qui è una cosa buona per recuperare appunto tutti i vestiti di questa sanità che è aumentata continuo di quando tu vai a pigliare le medicine e questa roba è qui. C'è un monte di ose, tu ci puoi fare i boni Amazon, tu ci puoi fare quelli Zalando, tu ci puoi fare la roba da mangiare dell'Esse Lunga, la I, la grande Iper, c'è i boni di Quet, dell'IP, c'è qualcosa di Time Oil da 25 euro, la benzina e mangiare e vestire per regali, Natura sì, quello o quell'altro, esser bella Primark. Ora ti puoi vedere il tweet, la lista è enorme, c'è, c'è Doni Rosa, il codicino questa volta non te lo metto qui sotto perché se fra di voi tu siete in sei amici e puoi andare lì, trum, e il codicino è le belle opinione, o diglielo Peter. Bisognerà che vi contattiate e vi uccidite, la sicurezza è bullo fate e non vi si dà il codicino, e vale massimo cinque persone, così tutti quanti arrivano a guadagnare sordi su questa sanità codigliette che costano, anche il pronto soccorso, che a me mi era costato invece un monte di quadrini. E per aiutare io, infatti, Jean Monique, siccome deve essere tutta una cosa a questa maniera, e che tu viti i tuoi amici, te ne viti quattro, e l'altro ne viti a cinque, e così via, a seconda se tu sei niente vecchio, niente nuovo, l'unica cosa che non va bene, se tu hai il conto, vi per banca, questo è un tu qui, un tu lo puoi aprire, questa promozione qui, un tu la puoi fare. Come altrettanto, se tu hai aperto DOCS, tant'anni fa, ad esempio, a luglio di 2021, mi ha fatto Jean Monique, e tu hai preso di Jai Bono, un altro bono da 25 euro, e un te lo danno, e mi sembra normale. Per presentare un po' di amici in giro, sa che gli ho fatto, Peter, vada qua, gli ho fatti il bigliettino da visita di canale YouTube, e potrà fare risparmio, almeno c'è il numero di telefono, Peter, che lo possano vedere qui sotto, c'è la mail, e qui di dietro c'è il QR code per finire a vedere video di canali YouTube per fare risparmio in questo bigliettino da visita, ma poi tu ci trovi anche il link al canale Telegram, il link al canale di WhatsApp, il link per andare addirittura su Facebook, nei nostri gruppi, anche all'interno di blog Tecnogalaxy, direttamente dove c'è tutti gli articoli, quelli che scrive Jean Monique. In questo modo qui, tu raccatti subito le 25 euro. Se tu sei qui, nella zona di Siena, di Firenze, o intorno a Toscana, tu passi magari a Travacci, ti do il bigliettino anche da cattè di canali YouTube, votata in risparmio, con tutti i nostri contatti, e mia, e quelli di Peter. Così, almeno tu inizi anche te a fare le promozioni, che ci hanno telefonato proprio per i facci lavori di Natale, che siamo riusciti a uno dei nostri amici, a farli avere in quest'ultimo periodo, in questi ultimi due o tre mesi, 350 euro in tutte le promozioni ha fatto con noi il canale, senza adottare tutti gli sconti e gli si è fatto pigliarli. Su The Fork, bisogna avere un altro buino, perché la voce è un periodo che va, mi viene, va, mi viene, e non ci si è avvicinato a nulla, e se no, poi dopo i video non lo avvicano, nemmeno loro. Basta andare nel sito dots.it, o addirittura nel Play Store di Google o dell'Apple, tu scarichi l'app dots, che è quella allo sfondo blu con la di rosa e garba tanto anche alle donne, tu clicchi sopra, tu la installi, e tu arrivi fino a scegliere il piano che ti interessa di più. Quale ti interessa? Quello che costa 0 euro ai mesi. Dot, fish, questo qui. E tu clicchi in fondo, e tanto è tutto gratis, se tu vai avanti tutti i registri, ci metti il nome e il cognome, addirittura questa app qui la vuole fare anche un ragazzo che ha anche solo 12 anni. Basta sia d'accordo i genitori che la fa magari prima il genitore, poi il ragazzo così almeno piglia 25 euro quel, 25 euro quell'altro. Poi altrettanto presentano gli amici, ogni amico di ragazzo e ogni amico di genitore sono altrettante 50 euro da quello, 50 euro di un'altra e con quanti amici uno riesce a fare. E quindi se sei in 3 o 4 o in famiglia a fare anche migliaia d'euro si fa bello bello alla sverta. Perché questi qui sono tanti per soldi, da 25 euro per nuovi clienti, da 50 per tutti in vita. E quindi si fa alla sverta anche a fare delle somme belle sostanziose con cui si possa ripagare i diet e la sanità che c'ha un buon nemmeno e che lo può fare da 12 anni in su tutti i residenti in Italia che abbiano almeno un cellulare. O più c'è l'Arm, ce l'hanno un po' tutti. C'ha un cellulare Android? Va bene. Se tu c'ha l'iPhone? E va bene. Uguale. Tu gli dici c'ha Android ma il sistema della registrazione va avanti lo stesso. L'importante è a un certo punto quando ti dice di domicilio tu gli dici è uguale alla residenza magari. È lo stesso. Appena sotto? Eccolo qua. C'ha un codice promozionale? E tu gli devi di sì, tu gli sclicchi sì e ti viene lo spazio dove mettere il codice. Per sapere qual è il codice bono tu ci contatti a noi per Whatsapp tu ci contatti per Facebook su Instagram da qualche parte in DM come tu vuoi te o se no su Telegram tu scrivi a Sergente Dumila che sarebbe Jean Tamone e ti risponde direttamente a lui e ti dà tutte le onore opzioni buone per sapere come fare questo Doz e fare in famiglia anche 1000 euro. Mi raccomando anche te la sciarpettina in collo la sanità è importante ma a questo giro si riesce arrivano a tutti sti sordi e noi così e si va al Reufero. Alla prossima e con tanto risparmio e stai attento anche te a questi Doz che specialmente nella scollatura della Fedora e ci avevano l'occhio lungo. Eh, a me però mi andava bene.